in questo tutorial vi mostrerò il trucco pin up che è un trucco tipico anni 50 e per realizzare questo make up occorre un ombretto bianco le linee in gel nero e un rossetto rosso andiamo ad applicare un ombretto molto chiaro in questo caso un bianco su tutta la palpebra mobile ed andiamo a fare la stessa operazione nell'altro occhio adesso andiamo a fare la linea con le liner in gel all'inizio vi consiglio molto fina all'attaccatura delle ciglia la coda della linea deve essere rivolta verso l'alto andiamo a fare la stessa operazione nell'altro occhio adesso andiamo ad applicare il mascara e anche nella parte inferiore dell'occhio adesso andiamo ad applicare il rossetto rosso sulla bocca della nostra modella per questo tutorial occorrono 10-15 minuti grazie a tutti grazie a tutti